Ci siamo, il vostro entusiasmo è meraviglioso che molti sono ancora fermi nelle altre persone e quindi la sua direzione, la sua direzione è una cosa che non è mai stata per colore parli, sono ancora non più a fare, ma sono contenta che il destra ancora molto di più e il posto di questi ultimi giorni che nancono ormai dalla liberazione del Paese, grazie